Buongiorno consiglieri, buongiorno, stamattina siamo qui inizio per discutere le tante. Io vorrei fare un intervento produttivo per chiarire che ci fosse ancora bisogno di una nostra posizione. Allora, io ho detto che siamo dei consiglieri di questa maggioranza, la maggioranza che sostiene il sito d'avvocato, allora, avventendosi un gruppo consigliare quello dell'arco. Abbiamo per questo tre mesi in perfetta, diciamo, sintomia con altri professi. Anche quando ci sono stati difficoltesti di sfruttare volte, noi abbiamo sempre scontato di appartenenza. Abbiamo cercato di riuscire in maniera critica rispetto a quelle che erano scelte, ma le abbiamo sempre votate. E in questo punto, 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 è stato praticamente leader di questi tre vicini. Poi, succede un fatto strano. Il 23 marzo, la mia lanciazione risce per raccogliere in materia di film. A punto di vista del evento, il Silano trattiene le sue emissioni del motivo, e poi potete chiamare la presenza di tutti a essere un attimo più sordi e di essere un attimo più attenti. Allora, in questo punto, c'è stata l'esigenza di capire se era possibile ritornare a una maggioranza, quella che era uscita da uno, e che già a quel momento non era più poeta. e il ritardino il fatto che parte del partito debo cammino, di quattro consigliere, di quattro consigliere, di quattro consigliere, di quattro consigliere, di quattro consigliere a un'analistica. rispetto all'amministrazione, che sono tanti dei passaggi a livello commissario che hanno portato alla presura di un documento. Io e Pepe Monano, pur avendo un'arte di mandato che si vuole dire, che hanno rimasto al nostro posto che ha cambiato ogni punto che aveva una modessa con questa amministrazione. Quando ci siamo in un secondo punto, che quando e mi dico uno, quindi lo tengo anche a qualcuno delle posizioni che parla il piede o il padre il padronino, quando che ha una posizione diversa, non la può manifestare in questa ragionanza. E noi pensiamo l'espressione diviva. Qua invece lo so? No, ma ragazzi, io io mi consiglio un signore, ma non consiglio. Voglio dire una metodo. Mio figlio ci aiutava molto bene. Un giorno di venti. Che ha detto la cosa del tuo gericulente. Lo abbiamo portato avanti. Abbiamo potuto utilizzare tre tecniche. Allora, io dico questo. Io dico che tutto è decisivo. Anche tutto è rispetto di documenti. Noi, per volare con il suo sforzio, abbiamo potuto utilizzare il progetto. In un percorso istituzionale che ci vedeva, in una posizione di condività. Io ero il caldo fuoco dell'arma. Persona stimata. Persona che è così. All'interno della mia nazionale, all'interno della mia nazionale e all'interno della posizione, io raccomando giudizi che non so che arrivai, dovrebbe guardare il testamento. Quello che ci dobbiamo dire che è il premolo di un documento avvitato, che era il rispetto di un documento di un certo modo. Poi lo abbiamo sostenuto, perché io inizialmente avevo parlato un mese. Non abbiamo altro rispetto. Ho portato con il sito. Ho portato con il sito. Allora, a qualcuno che mi chiede la problematica quando ci parti, gli dicevo, un medico ci va non conosciare. Un medico. E il medico, sapete chi è? Allora, quando abbiamo visto che a prove in materia di cose che potevano essere le cibili e non le cibili, io sto compagno di loro. Ma un buon padre di famiglia, quale deve essere il sindaco, garante di un'amministrazione, di un'amministrazione, vi chiede l'opportuno di ignorarci. Per questo non si muovono, non si asciugono, con un'americana di francese non si invita. Ma io voglio capire che in quale paese viviamo. Cioè, questo, questo è. Ma chi è il suo padre? Perché se questo deve essere l'amministrazione, non è il suo padre? Perché se non c'è il caso, se non c'è il rispetto delle idee alcuni, che possono essere anche sbagliate, io non devo svedere alcuni. Ma se non si accetta che per il concorso voi vi dover esattamente in quale paese viviamo. non c'è il suo padre. Abbiamo fatto un rinforzo voi, noi abbiamo scelto il posto. Per responsare questo governo io ho diventato opportuno di insegnare le decisioni del gruppo dell'Ama. Noi abbiamo scelto il posto. Abbiamo annunciato la propostazione del gruppo un pubblico. Abbiamo passato letteralmente a tutti. Io ho passato l'ultima e se non ci volevo intervenire. Benissimo. Io non so se vi tocchiamo il canale della nostra invenzione di voto. Ma ci hanno portato un titaco per voi. Cioè, il titaco ci ha posto il titaco. Noi abbiamo dato la possibilità al titaco di scegliere, di scegliere e di tornare a una strana politica. Quello passano i partiti, che lo passano le idee, quello tutto. Il titaco ha scelto un'altra strada. Il titaco, stamattina, che potesse far contare il pubblico e la sedere televisioni, andrete a dare lo stesso. A voi, cari amici, la nostra posizione speciale. Noi non abbiamo nulla. Noi abbiamo dato questo bilancio anche con la molestà tutta, ma non ci è data la possibilità di dare la possibilità. Allora, quando le cose che intendiamo non uscite, non dobbiamo dire che l'intelligenza è che la mia scelta. Il prezzo è per contendere una politica, ma non c'è nessuno più. Il prezzo è per contendere tra gli amici, che, ringrazio il pubblico che mi sveglia, il prezzo è per contendere e cercare in questa città una cosa e per tutta la città è poco. Non più una politica basata sulle orecchie. Poche persone che comandano e fanno gli amici. Antiché, antiché non a dire che dovrebbe guardare i numerosi cittadini di una città. Io direi che in questo Consiglio mondale ci sono tante persone orecchie che però non trovano quello scatto dottorico che gli permetterete di far sì che a Cattolio ci sarete una politica basta di brave persone e dell'ottica di una città di più. Quella, io penso, sia il nostro contributo, io penso che il nostro contributo dell'idea che abbiamo leggato. Ringrazio Grazie a tutti.